Ci sono poche cose che sanno infondere sicurezza più del sorriso di una dolce nonnina, una di quelle signore anziane sempre pronte a regalare un dolcetto e una carezza a qualche nipote in lacrime dopo essere stato sgridato dai genitori. Fu proprio questo, nonnina ridacchiante, il soprannome con cui tutti conobbero Nanny Doss, ma come vedremo nella sua vita non ci fu molto spazio per la tenerezza. Nanny Doss nacque in Alabama agli inizi del novecento. La sua infanzia non fu particolarmente felice, soprattutto a causa di un padre alcolizzato e collerico che la obbligò sin dalla più tenera età a spaccarsi la schiena nei campi, impedendole categoricamente di frequentare ragazzi, cosa che la Doss faceva abitualmente di nascosto. All'età di 16 anni la ragazza si fece coraggio e presentò al padre il suo fidanzato. L'uomo sorprendentemente accettò l'unione, i due quindi si sposarono ed ebbero quattro figli nei primi sei anni di matrimonio. Fu a quel punto che la lucida follia della donna e benizio. Stanca di badare una prole così numerosa, ne avvelenò infatti due, mettendo del veleno per topi nelle loro minestre. Poco dopo morì misteriosamente anche la suocera, con cui Nanny aveva un rapporto molto turbolento. Charlie Braggs, suo marito, sospettò subito della moglie e per la verità fu l'unico per diversi decenni, ma invece di denunciarla preferì scappare, portandosi dietro una delle figlie superstiti, per poi far ritorno un anno dopo per chiedere il divorzio e cacciare la donna da casa. Le due povere bambine finirono con la nonna materna e Nanny si mise a cercare un nuovo marito attraverso riviste di annunci per cuori solitari, riviste per cui la donna sviluppò nel tempo un morboso attaccamento. Dopo poco tempo, conobbe quello che sarebbe diventato il suo secondo marito, Frank Harrelson. Il matrimonio durò 16 anni, un record per la donna, come vedremo. Frank era un alcolizzato e un violento, arrestato spesso per rissa, e i rapporti con la moglie erano molto tesi. In più, durante questo periodo, Melvina, la primogenita di Nanny, ebbe due figli. Subito dopo il parto del secondo, la nonnina ridacchiante pensò bene di infilare uno spillone nel cranio del povero nipote, provocandone una morte istantanea. Incredibilmente, nessuno si rese conto dell'omicidio e la morte del neonato venne attribuita a generiche cause naturali. Anche per l'altro bambino la vita fu breve. La nonna gli stipulò infatti una ricca assicurazione sulla vita, uccidendolo poco dopo per asfissia. Lo stesso anno uccise anche il marito, avvelenando col veleno per topi la sua bottiglia di whisky. Difficile crederlo, ma dopo ben sei omicidi, nessuno pensò di sospettare questa ridente signora dallo sguardo rassicurante. Nel 1947 Nanny Doss si trasferì in North Carolina, dove grazie alle solite riviste per cuori solitari, conobbe Herney Lenning, suo terzo marito. Anche quest'uomo era un ubriacone violento, e la pazienza della nonnina ridacchiante non era più quella di un tempo. Il matrimonio durò infatti pochissimo, e Nanny si ritrovò presto vedova. Non contento uccise anche la suocera, la seconda dopo quella del primo matrimonio, per poterne ricavare l'assicurazione sulla vita. Subito dopo si trasferì dalla sorella, che, neanche a dirlo, morì poco dopo in maniera misteriosa lasciandole in eredità alla casa. Ormai Nanny Doss era totalmente incontrollabile, e nessuno sembrava poterla o volerla fermare. Entrata legalmente in possesso della casa della sorella, si occupò anche della vecchia madre, uccidendola. Poi poteri mettersi tranquilla ad occuparsi della sua passione preferita, la ricerca di altri cuori solitari come lei. Il suo quarto marito fu Richard Morton. Non ci sono molte fonti su di lui. Si sa solo che fu un marito deito spesso al tradimento, e che morì misteriosamente dopo il matrimonio. Come sempre nessuno si fece troppe domande sulla mogliettina affranta per l'ennesima volta. Dopo undici omicidi, Nanny non era ancora sazia di mariti e di sangue. Pochi mesi dopo, sposò infatti quello che sarà il suo quinto e ultimo marito, Sam Doss. Strano ma vero, il loro sembrò essere un matrimonio felice, almeno all'inizio. Quando iniziò a subentrare l'immancabile noia da lunga relazione, Nanny sentì l'impulso di ritornare disponibile, e fece alla sua solita maniera. La nonnina ridacchiante mise dell'arsenico nel dolce del consorte, che venne ricuberato d'urgenza e riuscì a salvarsi. Una volta tornato a casa, una generosa dose di veleno per topi mise fine per sempre alle sue sofferenze. Fu solo allora che il medico che ebbe in cuore il signor Doss fece quello che nessuno nei decenni prima fece. Si insospettì e decisi di eseguire una tuxia sul corpo dell'uomo, dove trovò abbondanti tracce di veleno. Dopo dodici omicidi, di cui quattro mariti, due suocere, due figli, due nipoti, la madre e la sorella, la donna venne finalmente bloccata e arrestata. La furia omicida di Nanny Doss, conosciuta come la nonnina ridacchiante, volse tardivamente al termine. Ah, se ve lo stesse chiedendo, le autorità riuscirono a far confessare la donna solo dopo la minaccia di confiscarle le sue riviste di cuori solitari. Se il video ti è piaciuto ricordati di mettere un bel mi piace, condividere e commentare. Se non ti è piaciuto spiega neppure i motivi, poi attendi i demoni che ti verranno a prendere nel cuore della notte. Nel frattempo ricordati di iscriverti al canale e alla nostra pagina facebook.